Quasi 2 milioni di euro di somme indebitamente percepite fra Abruzzo e Molise da persone che non avevano diritto alla misura del reddito di cittadinanza. Questo è il risultato dell'operazione portata a termine dopo sei mesi di accertamenti dai militari dell'arma della legione carabiniera Abruzzo-Molise che ha riguardato le due regioni con le relative sei province. I carabinieri hanno controllato 6.445 nuclei familiari dei 27.632 in totale a aventi diritto riscontrando 383 irregolarità di cui 319 di rilevanza penale e rimesse così all'autorità giudiziaria. L'intera operazione è stata illustrata questa mattina a Chieti dal generale Paolo Aceto. Io non farei una classifica delle regioni piuttosto che delle province che spiccano rispetto ad altre ma anche nello stesso, nell'ambito dello stesso Abruzzo ci sono delle disomogeneità tra le varie province quindi non si tratta di fare una classifica di aree più o meno virtuose. Certamente il fenomeno è abbastanza diffuso e varia in base ai controlli da percentuali che possono passare dal 3 al 10 al 15 per cento dei casi di indebita percezione. Credo che uno degli aspetti principali sia proprio quello di difendere la legittimità della misura e quindi tutelare sicuramente le persone che avendone diritto si trovano ad essere penalizzate rispetto a quanti invece con qualche irregolarità riescono a beneficiare di una misura di cui non avrebbero titolo. È già uscito la notizia di titolari di autonoleggi, di possessori di immobili, di cittadini non residenti sul territorio nazionale che hanno simulato una permanenza, quella prevista tra i requisiti che in realtà non avevano. Quindi persone collegate a ambienti di criminalità, persone con precedenti di criminalità. Ecco tutte situazioni che nel dettaglio sono state riscontrate con attenta verifica da parte di tutti i nostri reparti.